La giornata missionaria mondiale è una giornata di fraternità universale. Tutte le chiese, tutte le comunità cristiane del mondo pregano perché i missionari del Vangelo continuino con costanza il loro impegno a portare il Vangelo fino agli estremi confini della Terra. E tutte le comunità cristiane del mondo si uniscono in una fraternità universale anche nella solidarietà. Nella solidarietà verso i missionari, nella solidarietà verso quelle comunità cristiane più povere, più semplici, più umili, verso le chiese più giovani che appena muovono i primi passi, ma soprattutto nel sostenere quelle comunità che soffrono nelle situazioni di povertà estrema o nelle situazioni di persecuzione. E quindi è una giornata di fraternità universale.